la onna, la remissione in modus, quindi la fa in ritardo pagando una sanzione, 30 giugno per la raccomandata e a testa di conferma le visite esistenti. Dopo aver ricevuto nell'anno il primo rendiconto utile dopo aver ricevuto il contributo c'è l'obbligo di rendicontarlo per somme di un certo importo, ma mi sembra molto alto, non è che non è l'obbligo di rendiconto, l'obbligo di rendiconto c'è lo stesso, le somme superiori a 15.000 deve inviare il rendiconto all'agenzia delle entrate o al ministero, per le associazioni che ricevono contributi inferiore a 15.000 deve fare il rendiconto lo stesso e inserirlo nella propria amministrazione, quindi in qualche modo è dura dirlo, spesso è difficile dirlo, però dimostrare come si sono spesi, come si sono utilizzate queste somme, che non dovrebbe essere solo per pagare l'affitto per pagare la luce, magari per fare un certo evento, so che in pratica spesso si usano per quello che c'è bisogno, però per fare un certo evento, per destinarli a una certa direzione, quella poi istituzionale della associazione. Quindi l'obbligo di mettere una sezione del proprio rendiconto, quello che normalmente si fa in questo periodo, aprile, dove si indica quello e come si sono spesi e si sono ricevuti dai contributi ai 5.000. quando si approva rendiconto dell'anno in cui si sono ricevuti le somme. Ogni quanto può fare il bilancio di loro? Questa è una associazione. dobbiamo fare annualmente, almeno un all'anno, nel senso che se si parla di un bilancio consentivo è quello dell'anno trascorso, ora siamo a marzo, i vari consigli di amministrazione, dipende dallo statuto, ma normalmente questo obbligo di fare il rendiconto c'è entro il 31 marzo il consiglio direttivo dovrebbe prevedere una forza, una traccia, un rendiconto, entrate e uscite, quindi il rendiconto di cassa e sottoporre entro il mese successivo del 31.000 all'assemblea affinché lo approvi. Sono degli statuti che prevedano, diciamo qualche mese in più, ma normalmente è questa la scadenza e quindi una volta all'anno ci sarebbe anche un obbligo che sarebbe quello di prevedere, di fare il bilancio preventivo, certe volte si fa nello stesso momento, quindi quando si approva il consultivo si fa anche il preventivo, ci sono anche un'associazione che lo fanno invece prima della fine dell'anno, cioè a dicembre, fanno il preventivo per quello che sarà l'anno successivo, però insomma l'obbligo principale è quello del consultivo. Il preventivo è bene, non se lo faccia, anche per avere proprio, come posso dire, tutte le norme riguardo all'associazione si basano su una documentazione da poter esibire. Se davanti a un controllo più cose, più attività, diciamo, sia del consiglio direttivo che dell'assemblea si può esibire, quindi se si fa vedere l'associazione prevede tutta un funzionamento secondo le norme dello statuto effettivo, vero, reale e più in qualche modo abbiamo la possibilità di dimostrare che sia un'associazione che svolge secondo le proprie norme statutarie ma anche quelle nazionali le proprie normatività. Il cambio dall'anno solare all'anno fiscale, cioè io adesso siamo in 31-12, cioè primo gennaio e a me interessate arrivare invece, 30 luglio, 1 luglio, 30 luglio. Diciamo, molte attività, per esempio quelle sportive. Io faccio delle cose a cavallo dell'anno, certo, devo fare sempre due tessati, ma i poveretti che vogliono dire che vogliono fare un viaggio, con me che devo fare, invece se avessi quell'altro tipo di, diciamo, di anno fiscale, quel diverso, cosa si deve fare per cambiare? Bisogna variare lo statuto se già lo prevede invece un tempo annuale solare, quindi modificare lo statuto e mettere come hanno molte associazioni sportive o società o essere sportive che hanno cambiato e a quel punto adeguare tutte le varie obblighi, quindi, insomma, del rendiconto secondo, quindi una nuova previsione, che normalmente negli statuti si mette dopo tre mesi della fine dell'esercizio, quindi se cambia l'esercizio cambierà anche il momento in cui si dovrà approvare il rendiconto. Qual è l'anno di solito si fa? Primo luglio, 30 giugno o primo settembre, 30 luglio? Io di solito ho visto primo luglio, però dipende, cioè è abbastanza... Anche settembre. Anche settembre. Anche settembre, 30 luglio. E quindi non c'è bisogno di far niente perché se lo statuto non è stato fatto da mortaio, quindi è un statuto normale, basta fare una semplice straordinaria. Sì, fare una semplice straordinaria. Diciamo anche se lo statuto fosse stato fatto da mortaio in serie di costituzione, si può sempre modificare invece con un'assemblea straordinaria e registrare poi l'assemblea che fa delle modifiche e lo statutore aggiornato, registrarlo nel senso di portare una copia e sottoporre la registrazione all'agenzia elettrata, con 200 euro di costo di registro, quindi conviene ogni tanto quando c'è l'esigenza concentrare tutte le varie modifiche e farle in un po' solo. Io non dovrei riaprire questo punto, ci siamo sempre lì. Sì, sì. La schede è quella, ci sono cose che chiudono le altre, per il distruttore. Diciamo da voi che c'è una scrittura amministrativa da S.P.A. che sta dietro, non lo so. Ma in caso tu te lo fai controlli, allora se viene un controllo, io ho situazione, cosa devo avere? Così, direi, che regola? È tutto. Tutto cosa vuol dire? Allora, dipende se come associazione abbiamo sia un'attività istituzionale ma anche una commerciale. Se abbiamo solo quella istituzionale siamo quindi avvantaggiati, nel senso che è più facile, ci sono meno cose da tenere, non c'è una parte diciamo fiscale da dover tenere, non siamo soggetti a IVA, quindi è più facile. Principalmente però per tutte le associazioni è bene tenere aggiornato. Iurosoci che è a cadenza annuale, cioè tutti i soci, annuale anche secondo lo statuto, il mio solare o secondo il periodo dell'istituzione statuto, tutti i soci decadano a fine dell'anno del periodo e si riparte dal socio numero uno per tutti gli anni. spesso questo sia per organizzazione che forma organizzativa. No, quello lo dico perché il commercialista che ci segue adesso mi ha detto, il socio è il primo della storia, il numero uno, il numero uno per sempre, quindi dopo cent'anni si riscrive è il numero uno, se io vado a cercare il numero uno. Cioè uno può anche tenere una numerazione interna del socio? Non è un archivio più che un pezzo. Domanda che legge, sto a questo punto, dicono dei soci, quali, perché io ne ho trovati diversi su alcuni modelli, però poi non so se dipende anche dal tipo di associazione o no, che dati che viene detto il socio? Diciamo, non ci sono dei requisiti particolari, basta siano quelli che identificano il soggetto, quindi nome e cognome, indirizzo, codice fiscale. Ecco, quindi codice fiscale sono... Codice fiscale è meglio perché dal codice fiscale ci sono tutti i dati, è univoco, ci sono tutti i dati sia di nascita che... E' obbligatorio che in questo registro, io certi non mi si parla così, sia indicato il documento con cui il consiglio di amministrazione si è approvato il fatto che è un socio? Certo, perché diciamo, il socio annualmente, questo, si è detto che tutti gli anni si rinnova la pagina sociale, tutti gli anni il socio il 2 di gennaio viene e fa la richiesta di essere associata. Non è associato finché il consiglio direttivo non approva la sua attenzione, quindi è un po' pericoloso, per ritornare alla domanda precedente che ha portato a questo, è pericoloso adesso associare la mattina in cui si fa il corso un po' di persone, perché bisogna averci proprio dietro nella valigetta del consiglio direttivo che approva. Poi l'importante è che facciano un foglio con una data. Sì. E insomma, quello che dicevo, nel libro Socii deve essere nella riga scritto con che verbale lo ha o basta solo tenere agli altri tutti i verbali? Ma se uno sciolamente male non fa. È chiaro che se... perché quello è, diciamo, inserirlo lì fa vedere la cronologia delle ammissioni al socio. Se poi si vede da un altro momento, da altre cose, va bene lo stesso. Però se c'è, è meglio. E poi il libro Socii non è che debba avere dei visiti particolari, può essere un po' l'exercito in cui... Il libro Socii dell'anno scorso non si buttano via? No, no, no. Dieci anni, consiglio dieci anni tutti e tutti gli anni. Lo buttano via. Meglio di no, no, no. Io non sono messo qui. C'era Michele? Sì. Sì, su questo punto non vale che ne racconti un po' lì, però, diciamo, anche in virtù di una recente esperienza che ci è capitato da una vecchia associazione, ci sono stati problemi e quindi poi ci sono state confidenze con il CSB, il centro di servizio di confidenza legale, evocante, e cose varie. In realtà è emesso che la qualifica di socio non viene persa mai, anche se uno non rinnova, cioè dal punto di vista economico, la quota associativa, cioè rimane socio, a meno che non si dimetta, volutaneamente, uno dica che non basta non pagare, mi sembrerebbe che non basti non pagare, perché è stato l'anno successivo per decadere da socio, a meno che la persona non si dimette, dice mi dimetto da socio, non voglio più far parte, o a meno che non venga messa, cioè non venga fatta mai messa in mora, cioè tecnicamente devi dire al socio, guarda, che ti do il tempo fino al primo febbraio per regolarizzare la tua posizione, altrimenti decadere da socio. Se non vengono fatte questi tecnicismi, dal punto di vista legale, un socio potrebbe impugnare la sua appartenenza ancora all'associazione, pur non avendo temperato il pagamento della stessa associazione. Questa è una cosa di riforma, perché ci siamo confrontati con la riparta al punto, che adesso per una nuova associazione che sto fondando, ha inserito nello statuto questa cosa. Allora, se lo metti nello statuto non hai più bisogno di metterlo in modo dopo, perché lui accettando, sapendo che la scadenza è dentro il quale deve fare il quale deve fare. Se lo metti nello statuto sicuramente sono d'accordo. Quello che dicevo prima e quello che normalmente non ci atteniamo, è una conseguenza del fatto che da un vario tempo sono aboliti, quindi non sono previsti soci temporanei. Quindi la tessera associativa, spesso in mani statuti, va per anno solare, si dice, per evitare quello che succedeva qualche decennio fa, in cui uno era socio per un mese, per una settimana, solo per il singolo evento. Quindi di conseguenza, venne in qualche modo realito che l'ambito minimo del associativo è quello dell'anno solare. Se c'è nello statuto sono d'accordo, è molto meglio. Normalmente, è quello che, però so che l'agenzia d'entrata non viene a fare dei rilievi veramente particolarizzati, e quindi ci sta che è stato fatto questo rilievo da un punto di vista proprio legale. Legale, sì, sì. Diciamo, se c'è data di nascita, c'è l'uomo di residenza di nascita e l'uomo di nascita. Vabbè, lo stesso, è che il codice fiscale spesso serve anche, se devi fare una ricevuta ce l'hai già e tutto. D'altra cosa, io non ho mai fatto i verbali, non è, andremo a fare. I verbali vanno fatti, vanno fatti. I verbali non dire più. Allora, posso dire che a Bologna c'è un commercialista che si autodefinisce da vent'anni il desperto massimo delle risultazioni senza fini di lungo, comunque l'area deve essere. Quindi noi tutti i bolognesi, a partire i nostri strumenti, ecco loro, lui, lui è uno che ti fa, diciamo, un statuto più banale, più semplice, costruito, niente per il bilancio preventivo, niente, tutto molto, molto, molto basic e dice che non serve, non serve niente. Io sono andata a mettere a posto i verbali, ma i verbali, quelli di approvazione del bilancio quelli importanti, a un'associazione che aveva dieci anni, famosa associazione di Bologna che ha un giro d'affari, è molto grande, non aveva fatto un verbale, niente di assemblee un verbale, non, cosa fa? in cassa del cliente, gli mette i panchi e ogni mese si prende il 10% euro, questa è la cosa, capito? Cioè, è più difficile, per cui io questa cosa di verbali non si condividi, non avevo visto mai nessuno, sia verbale del direttivo che assemblee, come dicevi? Dicevo, sia verbale del direttivo, almeno, non so, almeno 3 anni, questo intervento, 3 anni sì, ma così io posso fare adesso, certo, sì sì, perché non serve comunicare quel cliente, non serve farli su dei registi bollati, quindi se li vuoi, può recuperare i tempi. Altra cosa, la richiesta, cioè il foglio che io do al richiedente di una parte associazione è cartaceo, lo mettiamo e viene firmato, io alle volte spedisco quello via mail, e lui poi me lo rimanda, però io ho visto che, ad esempio, con una caratteristica rinnovo, tra virgolette, io non firmo niente, nel senso, compila un form e il tutto funziona così. Questa è una cosa che io posso fare, cioè io chiedo a lui i dati, o meglio, crea un form, non ho bisogno della sua firma, della sua sottoscrizione, della sua firma. Se il form prevede che in qualche modo venga registrato il suo consenso. Sì, cioè diciamo così come io dal sito riceverei una cosa che tengo allegata come richiesta, però non c'è, diciamo, la firma a penna. No, perché tu clicchi, insomma, con le banche a sottoscrizione, che... Sì, 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 è valido comunque, normalmente consiglio anche di fargli firmare la liberatoria della privacy, eccetera. Sì, ma è tutto nel foro. Sì, ma con un senso. Ecco, perché, rispondendo alla domanda di Gimiotto, perché servono i verbali, perché serve avere... perché quando vengono le verifiche, diciamo, il timone massimo è quello di dire questa è un'attività commerciale perché non ha diritto a nessuna agevolazione prevista per le associazioni. Quindi la perdita del requisito del cliente senza fine di lucro. quindi se non c'è la possibilità di dimostrare che c'è un'attività associativa reale, se non si rispetta le norme documentali, eccetera, tutte le entrate, anche il socio che effettivamente fa che essere per un'attività istituzionale, viene reso commerciale. Quindi il rischio è che l'agenzia dell'entrata vi era le imposte per tutte le entrate che l'associazione negli ultimi cinque anni ha fatto. Niente. Cioè, no. Libro socio? Libro socio. Per varie assemblee e le rinunze del consiglio di reti. Questi sono quelli principali per un'associazione che ha solo il codice fiscale. Chi ha anche la partita riba deve eseguire un regime fiscale, quindi deve scegliersi un regime fiscale che può essere quello della FN 98 del 91, quello forfettario. Oppure un altro regime che però è limitato fino a 250.000 euro, è fatturato a anni. Oppure un altro regime, come se fosse un'azienda qualsiasi, normale, semplificato, ordinario, finito. Posso chiedere una cosa? Certo. Prima hai detto, è pericoloso fare il tessere volanti alle persone che magari entriano per i giorni in associazione per fare un corso. Qui la procedura corretta qual è? Sarebbe quella di avere la loro adesione, quindi la richiesta di far parte dell'associazione qualche giorno prima, come normalmente uno si iscrive a un corso, mettere tutte insieme, fare una riunione del consiglio direttivo che fa entrare in una pagina sociale le persone e poi hanno fatto richiesta e poi dopo fare le parole di fare l'unione del consiglio direttivo antecedente alla data dell'età voluta. Questo nasce perché in tanti circoli dove c'è un bar, per essere molto più espliciti, è sempre capitato che tu facevi, entravi, diventavi socio e consumavi, quindi il controllo dice no, tu, questo è sempre il discrimine di attività associativa o di attività commerciale, per cui se tu diventi socio immediatamente, vuoi dire, ma lo stai raccontando, come ha fatto a riunirsi con il consiglio direttivo due minuti prima, due minuti in cui ce l'avevi dietro un banco del bar, cioè è impossibile. Tempo che il bicchiere ha la risposta a poco. Per cui poi... Eppure sono tante... Arci... Quale dove siamo? Se non volevo dire, non volevo fare i nomi. È un apprassi in uso. Adesso tu puoi confermarlo, la senti più... Sì. Inversariato. Sicuramente le associazioni che non fanno parte di un circuito forte, il compito. I compiti sono sempre i miei problemi. Io asserisco che ci sono anche multinazionali delle associazioni, quindi Marci, Xen, Coni, etc. In realtà bisogna stare attenti, se diceva, a questa tempistica, anche quando, ne so, si riceve un acconto per un corso, nel senso, nel momento in cui viene, fa la richiesta e lascia un acconto. Andrebbe un attimino messo in stand-by, nel senso, non li posso fare una ricevuta a un non-socio senza che sia fiscale. Prima deve essere il socio, poi deve fare una ricevuta. Quindi tutte le entrambe che derivano dall'esterno devono essere fatte per essere non commerciali nei fronti dei soci, già iscritti nei tuoi soci. Ma è vero che non c'è l'obbligo della ricevuta nella società sociale? Allora, se si chiama, se si intende ricevuta fiscale... No, no, ricevuta, ricevuta. Cioè nel senso che a fronte di una scrizione, un corso, eccetera, non c'è nessun obbligo a... No, non essendo un'attività fiscalmente rilevante, non c'è un obbligo, chiamiamolo fiscale. È chiaro che anche se nei fronti del socio, anche per memoria contabile, se gli do una ricevutina è meglio. Ma magari lo scrivo con lei, allora l'ha passato, durante una quota di scrizione, è un viaggio di distribuzione. Sì, per la parte, diciamo, non fiscale, non distribuzionale, non c'è l'obbligo di ricevutare. E l'altra... Io volevo chiedersi un po' a profondire il discorso, attività istituzionale e commerciale, nel senso che... E lei mi ha detto che tutto quello che è rivolto verso i non-soci, è costretto commerciale. Sì, non solo. Esatto, verso i soci, nel senso che io posso fare... Noi siamo, io dicevo, SD, siamo diventati APS. Abbiamo i nostri corsi settimanali, e poi abbiamo delle persone che fanno dei trattamenti, quindi individuali, e poi facciamo dei corsi che non sono propriamente sportivi, e possono essere cose sulla visualizzazione, che io, diciamo, tecnicamente, in questo momento, non ho capito bene come far passare. Se come è l'interesse istituzionale, oppure come qualcosa d'altro, e poi ci può essere anche la formazione. Quindi capire che diverse tipologie di attività, sotto che voce, farle, diciamo, classificarle. Allora, diciamo, qual è la parte istituzionale? E tutto quello è previsto nello statuto. Quindi nello statuto io posso prevedere molte cose, nel senso che è meglio dettagliare proprio tutto. Quindi se c'è un'attività sportiva, se c'è un'attività di formazione, se c'è un'attività mettiamo di ricerca tra soci, quindi tutto quello che io voglio rendere non commerciale, lo devo mettere nello statuto. Sì, perché io dico che voglio divulgare lo shatsu e il papore. Un massaggio shatsu verso un socio, è un'attività istituzionale o commerciale? Ma secondo me è un'attività istituzionale. È chiaro che va un po' vista, va un po' inquadrata, nel senso che se questa attività io la faccio in maniera proprio costante e industriale, cioè come fosse una palestra, che tutti quelli che vengono si fanno dei massaggi, eccetera, allora ci sono anche dei requisiti po' dimensionali che... Io trovo che su questo ci siamo molto a confusione, perché come già dite da qui ho parlato, tendo a dire di tenere separato di un'attività istituzionale, c'è il terreno imposto che è un servizio che tu offri come professionista a un socio. Comunque dicono che il professionista dovrebbe essere registrato, fare fatture, fare tariva e quindi così. Questo diciamo è stata la cosa che io ho trovato più in difficoltà. Allora, io consiglio di inquadrarlo, il caso specifico del massaggio o cose, di inquadrarlo in questo modo. come... cioè quindi il consiglio direttivo si riunisce e dice facciamo questa attività in fronte degli associati, eccetera, eccetera. Come la facciamo? Chi la tiene? La tiene uno di noi? La impostiamo come un'attività di sperimentazione, di ricerca e quindi anche di verifica dei risultati che hanno questi tipi di trattamenti, eccetera, eccetera. Quindi l'ha imposta con un programma in cui i soci mettono in atto questo tipo di attività e quindi una sperimentazione, diciamo così, anche di questi tipi di trattamenti. Un fatto di documentazione scritta magari non si può verificare che è una ricerca. Meglio ancora se c'è anche quella, ma anche, ne so, in un direttivo successivo, in un'assemblea metterci dieci righe in cui viene l'istruttore o la persona che ha tenuto, le persone si confrontano sui risultati ottenuti in questo tipo di sperimentazione, in questo tipo di attività. E se è una persona di consiglio di attività che fa l'attività? Lo stesso. E' uguale? Lo stesso. Il problema può sorgere nel momento in cui questa persona, se non ha un compenso, quindi lo fa in maniera volontaria, non ci sono problemi. Se c'è un compenso, va un po' visto come inquadrarla. Perché, in primo, perché i membri di consiglio di attivo è meglio se non prendono somme o non ricevono dei compensi, se non può, in maniera occasionale e molto sattuale. E, nell'altro campo, perché poi la persona, se è sempre la stessa, quindi se non c'è effettivamente una sperimentazione, nel senso che più persone che si confrontano, ma c'è proprio il terapeuta e basta, sarebbe meglio che questa persona adessi una tua posizione professionale. Quindi lei mi conferma che in questo caso è meglio avere persone che sono riscaldamente autonome e più distingue delle cose. Se non si può veramente dimostrare, invece c'è una sperimentazione in cui ci sono 3 o 4 persone che poi magari fanno un percorso e arrivano a ottenere i visiti, eccetera, eccetera, dove poi prenderanno la propria posizione fiscale e autonome. Poi, anche lì, anche avendo la propria posizione autonoma di un partito da IVA, va un po' in quadrato, l'ho visto come si fa. L'associazione li affitta, tra virgolette, quindi li metta a disposizione degli spazi, oppure, l'avevamo visto, in certi casi... Abbiamo fatto uno scambio, nel senso di arrivare a disposizione degli spazi e poi l'attività per l'associazione. Su questa cosa c'è una confusione. C'è confusione, spesso uno, magari volendo fare un'attività, chiamava professionale o da obiettivo, pensava di poterla fare solo un'associazione. Si può anche fare, però, fino a un certo punto. Cioè, stiamo sempre al limite. Quindi l'associazione può usare un operatore logistico e pagato, ma non che tutti quelli di quale associazione fanno gli operatori logistici e vivono. No, nel senso, se c'è, l'associazione può mettere a requisizione, non so, è un fuoco dei soci e può farlo. La persona, cioè l'operatore, è meglio che abbia una propria posizione fiscale. Almeno che non lo faccia, ma è la volontaria, almeno sono le loro sospese. Quindi, idem vale per un istruttore di un corso di formazione, di un seminario, ma se questa persona, diciamo, se io faccio l'istruttore, non faccio parte del Consiglio dell'Associazione, e sono un socio dell'associazione, è meglio che io non fossi un socio dell'associazione? No, no, quello va benissimo. Ah, quello che è, quello che è, quello che è il precedente, quello va benissimo anche per, diciamo, qual è l'attenzione anche nelle ultime leggi, che le associazioni si prendano tutta una fetta di mercato e operano in condizioni di non concorrenzialità con il mercato, nel senso, offro dei servizi, io li offro a 20 euro e fuori a 50, però il fatto che sia un socio che lo fanno in fronte degli altri associati è un, in qualche modo, va in questa direzione, cioè sì, lo fa 20 euro perché tutta l'Atena, anche l'istruttore o il terapeuta, mi fa dei prezzi di favore perché lo fanno in punti di associati. Ovviamente io sarei un istruttore di l'epoca, ma non c'è un qualifico a fare certo. Siamo pronti, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, 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 non c'è. Tipo un corso, come ad esempio, un corso nello sportivo, tipo di meditazione, un po' di queste due cose, come va a tre volte ai soci? Sei stato inserito nella, è un'attività istituzionale e la persona come viene da casa che fa questo, questa domanda? E deve avere una posizione fiscale. Se ha una propria posizione fiscale, fa la fattura, fa la fattura, l'associazione, la risonanza d'acconto, eccetera, eccetera, eccetera. E lì è a posto? È a posto, è a posto, anche se, sì, diciamo è a posto, non voglio veramente... Se non ha una propria posizione può fare una prestazione occasionale, fino ai limiti del 2000 euro, 2045, se in Basilia, all'anno nei confronti della stessa, nel rapporto tra associazione e, diciamo, professionista. Il professionista ha un proprio limite di 5.000 nei confronti di più committenti. Quindi come APS, questa sarebbe la formula standard per pagare chi imparca.